E' allarme siccità in Valsesia. Le precipitazioni scarseggiano e ci si deve preparare ad un'estate secca. Ma cosa accadrà? Ne abbiamo parlato con Francesco Pietrasanta, presidente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia. In Valsesia con un maggio che è presto alle porte sono tre anni di siccità. Quindi c'è un allarme siccità, c'è un problema grosso. Più territori sono colpiti, alcuni sono ricaricati da autobotti, altri stanno allacciando sorgenti d'emergenza. Il Cordar ci ha segnalato questa emergenza che si sta dilatando su tutto il territorio. Ci sono alcuni comuni più colpiti, Marallo, Cuarona, Scopa, Ceglio, Cravagliana, ma anche nel Valseserino. Coggiola in primis è il più colpito. La stessa Valsesia mi segnala il sindaco dove stanno calando le sorgenti, per cui se prima avevamo sorgenti al 100, l'anno scorso erano al 60, oggi si stanno andando sotto il 50 e raggiungono anzi il 30, il 20%. Il Cordar ci chiede di tagliare i consumi e usarli soltanto per necessità vitale, quindi mangiare, lavarsi, eliminare tutto ciò che è superfluo, quindi lavare l'auto, bagnare l'orto, bagnare il giardino. Dobbiamo veramente imparare a tagliare i consumi di acqua. Se non piove, da qui ai prossimi mesi alcuni sorgenti saranno asciute e quindi non arriverà più l'acqua. Il problema dovrà essere risolto in due modi. Sicuramente il primo è quello emergenziale per cui agire per togliere i disagi o almeno alleviarli tramite la protezione civile, un piano in cui viene distribuita l'acqua giornalmente casa per casa. Il pensare che si possa gestire comuni come Cuarona, Varallo, Borgossesia con le autobotti è impensabile. Mediamente contate che in Italia una persona consuma 200 litri di acqua al giorno, quindi se l'emergenza va avanti bisognerà razionare totalmente l'acqua. Speriamo di non arrivare a questo punto, ma se sarà necessario dobbiamo essere pronti, ma essere pronti anche a livello mentale, perché come abbiamo visto nell'emergenza Covid è importante che le persone credano a quello che dicono le autorità. Se l'acqua non c'è e si sta facendo il possibile bisogna crederci, non pensare che siano bugie o pensare di poter sostituire le autorità. Successivamente la fase 2 è quella di implementare i bacini di alta, bassa, media, quota, pensare a delle dighe, efficienza sulle reti, perché se la situazione andrà avanti così ovviamente bisogna fare un piano strategico. Grazie a tutti.